A San Cataldo, dopo l'Assemblea cittadina sull'aggiornamento del piano regolatore generale comunale, in questi giorni previsti altri incontri nella sala Mancuso del municipio, per illustrare le direttive generali propedeutiche. Poi saranno stabilite altre iniziative con i cittadini. Negli ultimi mesi gli uffici comunali si sono messi a lavoro per aggiornare il PRG, individuare i punti sui quali intervenire. Si apprende dal sito internet del Comune, dove si legge anche il pensiero del sindaco Modaffari relativamente allo strumento urbanistico elaborato nel 2003, approvato nel 2005 e alla previsione di allora del 31 dicembre 2017. Si prevedeva infatti una popolazione di circa 25.000 abitanti. In realtà, giunti a quella data, spiega Modaffari, di abitanti ne abbiamo registrati quasi 23.000. La riduzione della popolazione va a determinare un mancato utilizzo delle aree previste come edificabili. Si sono evidenziate inoltre criticità relative ad alcuni programmi costruttivi su zone come Mimiani, Pizzocarano e Gabbara, che sono ancora libere in ambito di edificazione. Ciò in quanto qui gli oneri e i concessori sono superiori al resto della città. Erano state previste opere pubbliche come scuole, strade e strutture per servizi. Di fatto, ciò ha modificato gli importi degli oneri. Uno degli obiettivi della revisione del piano regolatore, aggiunge, è intervenire per cercare di ridurre gli importi degli oneri di urbanizzazione. Inoltre, il sindaco si sofferma sulla necessità di revisionare il piano particolareggiato di recupero per una migliore appetibilità del centro storico.